Ciao a tutti, questo è il programma di Jordan Cassel, ho appena finito il programma con lui faccia a faccia, quindi era una cosa molto personale e posso dire che il programma funziona benissimo. Sono cresciuto, sono più confidente adesso e ho conosciuto tantissime ragazze, tra cui modelle, designer oppure anche gente per strada che mi sono portato a casa. Per questo ringrazio Johnny e sinceramente lo suggerisco a tutti quanti, tutti quelli che possono farlo con lui. Cos'altro posso dire di Johnny? Johnny è stato veramente, veramente, veramente una brava persona in quanto non ti aiuta soltanto faccia a faccia, ma è sempre a diretto contatto con te e questo ti fa veramente crescere. Ringrazio Johnny e suggerisco a tutti quanti, tutti coloro che possono, di fare oppure contattare lui direttamente in quanto è il migliore secondo me. Ringrazio Johnny e suggerisco sia un bel hotel e inchiore, tutti coloro che possiamo direttamente in quanto è il miglioreamingo di Tripoli.